Napoli, città che sorprende. Musica, danza, teatro e arti visive daranno vita a un ciclo di eventi legati alla Pasqua. Presentata a Palazzo San Giacomo, l'iniziativa animerà la città nelle due settimane dal 18 marzo al 2 aprile, attraversando Piazza del Plebiscito, San Domenico Maggiore, Castel del Lovo, il complesso dell'Annunziata, il Cimitero delle Fontanelle, la Casina Pompeiana e il PAN. A Pasqua Napoli sarà dal punto di vista della cultura e dell'arte una città sorprendente, ricchissima di straordinarie sorprese. Per chi ama l'arte, per chi ama la cultura, già Napoli, come io dico sempre, è un evento straordinario ogni giorno e quindi può incontrare anche nel periodo di Pasqua, in cui c'è un'atmosfera legata ai temi della religiosità, ovviamente ricchissima e suggestiva, ma davvero potrà con le iniziative che abbiamo messo in campo trovare a Napoli un'offerta culturale ed artistica di grandissimo livello. Si comincia venerdì 18 nella chiesa di San Ferdinando con una rara esecuzione dello Stabat Mater di Pergolesi rivisitato da Paesiello. Al succorpo dell'Annunziata, Rosaria De Cicco, racconta storie di donne del sud. Dal giovedì santo al lunedì in Albis, le fantastiche liturgie della Settimana Santa con Estaba la Madre eseguito dal vivo da Luis Bakalov, le stazioni di Cristo su musiche di Berio, l'apparizione dell'angelo nella chiesa di San Francesco di Paola interpretata dall'Insei Camp, la resurrezione di Handel, la proiezione della fiaba musicale Ovo di Peter Gabriel sulle mura di Castel dell'Ovo e ancora concerti di musica sacra e profana, le lettere d'amore di Frida Kahlo al Pan e nella serata di Pasqua un concerto di campane in Piazza del Gesù. Ci sono tante altre cose che accadranno in questi giorni come il 23 l'inaugurazione dell'archivio sonoro della RAIA alla Casina Pompeano oppure il 30 la titolazione dell'auditorium di Scambia a Fabrizio Di Andrè, insomma un programma che parte da queste ore e arriverà anche dopo a Asqua fino al 2 aprile, quindi un programma molto ricco e intenso e io poi ci vedo la grande conclusione il 9 aprile con il coro più grande del mondo a Piazza del Plebiscito.